buonasera amici 24 marzo 2022 una serata storica purtroppo per lo sport italiano per il calcio in particolare sarà ricordata come la giornata della quale per la prima volta nella storia del calcio l'italia è rimasta per la seconda volta consecutiva fuori da un mondiale di calcio io stasera stavo anche rinunciando a fare il solito video di commento perché l'ammarezza era parecchia insomma perché è parecchia perché francamente l'ultimo mondiale a cui abbiamo partecipato del 2014 te ne riparleranno nel 2026 quindi è pazzesco è anche una cosa piuttosto beffarda pensare che questa squadra è la squadra che ha da poco vinto gli europei è paradossale perché fuori da un campionato del mondo poi vince i campionati europei e poi riesce un'altra volta dai mondiali è veramente curioso con gli stessi giocatori poi che hanno vinto l'europeo nel video precedente purtroppo devo dire avevo colto quelle che potevano essere le difficoltà di questa partita avevo detto attenzione perché se non riusciamo a sbloccarla questa partita diventerà complicata se avrei andato a rivedere purtroppo avevo intuito quello che era il problema cioè il problema è che in questo in questa fase della stagione ci sono un sacco di partite tra coppe eccetera eccetera e anche questi giocatori hanno lavorato pochi giorni a covecciano insieme eccetera hanno avuto poco tempo per preparare queste partite queste partite così importanti perché poi questa non era quella più difficile e quella più importante e quella più difficile e più importante sarebbe stata quella contro il potto gallo però quindi ripeto avevo detto attenzione perché se non la sblocchiamo rapidamente questa poi si incasina perché loro si mettono se tutti dietro fanno le baricate però dopo aver visto la partita che come sapete si è conclusa con questa rete nel al 92esimo di tra i coschi che sarà anche una bella rete cioè mi ha colpito la determinazione feroce col quale l'attaccante macedone si è buttato su questa palla calciando con questo esterno destro molto angolato un tiro imparabile no molto difficile non imparabile il nostro portiere non aveva preso una palla tutta la partita è rimasto anche un po fuori dalla partita ma non si può imputare a donna rumma secondo me questa sconfitta che cambia la storia della nazionale cambia la storia perché naturalmente mancini si dimetterà cambierà tutto lo staff tecnico ci sarà una rivoluzione purtroppo è così tutta la programmazione che aveva portare avanti va in fumo con un gruppo di giocatori che secondo me anche un buon gruppo di giocatori però ci sono state alcune cose nella gestione di questa situazione che io francamente non riesco a capire e l'emblema della confusione nella quale si è un po trovato anche mancini è la scelta di far entrare due giocatori come chiellini e giopetro al novantesimo cioè è vero che c'erano tutti i tempi supplementari per carità però se proprio decidi di far entrare due giocatori di cui uno poi hai fatto tanto anche per naturalizzarlo chiellini giocatore di grande carisma che ha un'esperienza magari fagli entrare a dieci minuti dalla fine no voglio di cerca comunque di vincere nei 90 minuti la partita perché comunque per noi andare tempi supplementari sarebbe stato molto negativo in ottica spareggio col pottogallo quindi era la partita da vincere nei 90 minuti la carta giopetro sinceramente ma se l'è giocata molto prima visto come ha giocato immobile perché quello che sarà rimproverato sempa di immobile scusate a mancini in queste ultime partite e questo esserci in caponito in questa maniera su ciro immobile che il nazionale non struscia una palla non si riesce a capire il motivo e penso che con queste prestazioni prestazioni abbia anche abbastanza chiudo con la nazionale immobile che già nelle ultime partite dell'europeo ha giocato molto ma più che giocare male non è proprio completamente fuori da gioco ed è stato così anche stasera essersi in caponiti tutta la partita su immobile è stato veramente anche curioso diciamo cioè come se lui avesse voluto dimostrare essendo noto che mancini è un uomo molto testardo come se lui avesse voluto dimostrare che non aveva sbagliato in passato a puntare su ciro immobile che ripeto il nazionale per come stavo pensando oggi ma che gli hanno fatto un malocchio nazionale a questo ma questo nella lazio segna sfracelli di gol in tutte le maniere di testa in tutti i modi e nella nazionale non prende la palla è misteriosa questa cosa c'era antonio cassano proprio ieri mi pare che non ricordo su quale canale youtube non mi ricordo c'era un video che girava su tiktok mi pare addirittura con erfaina che criticava cassano perché cassano ha detto che immobile ha segnato tantissimi gol ma non è un giocatore forte non è uno che sta a giocare bene a pallone è uno che segna tanti gol e faina diceva no non è vero perché ha segnato 140 gol mi pare con la lazio quindi se uno segna tutti questi gol vuol dire che è molto bravo con attaccanti e quindi sa giocare al calcio ma questa è un po la polemica ma io penso non ci sia una spiegazione chiara a questo cioè immobile è dottor jekyll e mister haid cioè nella lazio è incontenibile nella nazionale è osceno non si tratta ma un'altra persona è inspiegabile questa cosa ma io quello che rimprovera mancini lo devo dire questo l'ho detto anche nel video precedente prima della partita quindi in tempi non sospetti perché oggi massacrare mancini è troppo facile quindi la mia è una critica così un po cioè molto contenuta perché stasera dire che ha sbagliato tutto è troppo facile lui ha sempre detto noi ci qualificheremo ai mondiali e magari li vinceremo e vinceremo ha sempre parlato di questa cosa di vincere i mondiali di ai taglieremo sicuramente destra e sinistra io non so se è stata una cosa per caricare l'ambiente però è stata una cosa un po secondo me un po presuntuoso diciamo è perché io ho il timore che l'italia abbia commesso con questa approccia la partita con la macedonia un errore che a questi livelli è imperdonabile una sottovalutazione dell'avversario cioè loro erano veramente convinti di vincere in qualche modo questa partita per poi andarsi a giocare la vera sfida la vera finale come se mentalmente avessero pensato un po anche di risparmiare energie per la vera partita decisiva determinante quella che ci aspetta fa quattro giorni è una mia sensazione può essere anche un errore però io una cosa la devo dire qui bisogna andare al nocciolo della questione questa va detta la macedonia del nord un sacco di battute sui social no l'italia alla frutta con la macedonia eccetera eccetera la macedonia amara per l'italia la macedonia del nord è una squadra che non vale un cazzo cioè io penso che noi siamo dopo averla vista in campo cioè io qualche dubbio potevo averlo ma dopo averla vista per 90 minuti io li devo veramente battere le mani perché è avere vinto questa partita con questa squadra non tanto per il livello tecnico dei giocatori che poi hanno fatto alcuna partita coraggiosa di applicazione ma proprio quello che è il gioco della squadra che non c'è cioè questa è una squadra che non fa tre passaggi di fila la squadra senza fantasisti senza c'è un livello tecnico veramente modesto e uscire con questa squadra è veramente umiliante perché quattro anni fa siamo stati eliminati dalla svezia che era una squadra normale buona squadra niente di che ma insomma è una squadra di calcio questa definirla la squadra di calcio ce ne vuole cioè questi a in portogallo usciranno tranquillamente ci saranno proprio problemi per portogallo quindi 70 amarezza perché io stavo pensando io sono nato nel 69 naturalmente non posso ricordare i mondiali del 70 che ho visto in seguito poi quando la storia dei mondiali me la sono studiata crescendo nel 74 anche non ho ricordi il primo mondiale è quello del 78 che invece ho vissuto con moltissima mi sono visto proprio tutte le partite mi ricordo con questo piccolo televisore in bianco e nero mi ricordo nel 78 quindi avevo 9 anni e lì ho cominciato veramente a seguire costantemente il calcio fino ad oggi e poi c'è stato c'è stata l'avventura dell'82 mondiale 86 il 90 l'italia 90 94 anche lì siamo arrivati in finale col famoso rigore sbagliato a baggio contro il brasile 98 2002 poi il 2006 ancora la vittoria 2010 i mondiali ci sono sempre stati nella mia vita nel senso era quasi scontato scontata la presenza dell'italia mondiali ma invece c'è sta novità che andare mondiali è diventato complicato anche per noi quindi diciamo un po' esterefatti cosa dire di questa partita la formazione fatta da mancini sulla carta poteva essere anche una buona formazione donna rumma florenzi a destra che secondo me non ha giocato male emerson palmieri i due bastoni mancini al centro barella giorginio verratti e poi berardi immobile insigne sulla carta però l'abilità dell'allenatore deve essere anche quella di vedere quella che è la condizione reale dei giocatori a livello psico fisico prima della partita insigne per me questa sera è un giocatore che non era in condizioni di scendere in campo ma non c'è non era proprio sembrava fratello fratello che poi esiste veramente no giocare credo ancora nel benevento lo conosciamo anche bene perché abbiamo avuto anche nel latina è certamente un altro tipo di giocatore rispetto a insigne ma l'insigne di stasera un giocatore non può giocare nazionale berardi al di là di errori clamorosi che ha fatto al tiro il primo tempo il portiere gli regala una palla praticamente al limite dell'aria è a porta vuota e invece di calciare con forza e poi uno che c'è anche un tiro forte berardi ha calciato verso la porta con il piatto dando il tempo al portiere di recuperare con con facilità insomma sono degli errori a questi livelli imperdonabili che poi si pagano ma berardi soprattutto c'ha sta caratteristica che sbaglia e ride la prende un po a ridere godisce ha statteggiamento un po cazzeggione no che non onora la maglia che indossa sbaglia tira fuori magari c'è la deviazione lui si guarda questa faccia un po stranonata così non mi è sembrato starci con la testa su questa partita immobile non ne parliamo cioè noi avendo visto la partita 90 minuti su rai 1 come tutti possiamo dire che dopo questa partita io mi sono messo il cappellino comunque per rispetto naturalmente ai colori azzurri d'italia eccetera per carità anzi sono proprio queste le serate nelle quali uno si deve mettere il cappellino dell'italia però a questa squadra non posso certamente fare tanto di cappello come si può dire perché dopo la partita noi possiamo dire tranquillamente che berardi immobile in figlia stasera non dovevano scendere in campo per come hanno giocato questo io lo devo dire l'inserimento di raspatori in quel momento della partita lo dico molto chiaramente secondo me non ne accentrava una sega perché con questi spazi così stretti tutti dietro è chiaro che tipo di giocatore serviva no serviva scamacca che pare che sia infortunato cioè un giocatore fisicamente prestante potesse sfruttare anche qualche palla alta la mischia un giocatore opportunista il contrario proprio di raspatori che invece un giocatore molto tecnico che gioca velocità di prima eccetera mi sembra di poter dire che non c'entrava una marcia in quel momento e mi sembra che si sia visto e questa è un po' la dimostrazione che mancini è andato in confusione mancini a 30 minuti della fine 25 20 quando mi pare doveva togliere immobile e mettere gioco petro perché perlomeno certo caricare di responsabilità in questa maniera un giocatore che al debutto nazionale che si trova una partita decisiva per andare mondiali è un po' così particolare però c'è lì perso per perso te le dovevi giocare tutte le carte e io mo la sta cosa la devo dire purtroppo la devo dire sta cosa purtroppo in questa partita ragazzi a mezz'ora della fine ci sarebbe servito anche balotelli e balotelli in questa partita devo dire la verità anche sulle palle alte nelle mischioni generali eccetera potrebbe essere utile non che vi dica che dobbiamo convocar balotelli perché su balotelli c'è tutta una mia idea personale però per dire che vedrete che i giornali faranno notare questa cosa domani perché davanti è mancato proprio lo stoccatore l'italia ha fatto la partita per 90 minuti non me la sento neanche di dire che ha giocato male cioè questi stavano tutti dietro venivi avanti per forza d'inerzia perché poi vedete l'eliminazione al novantesimo al 92 non è neanche giusta cioè loro hanno fatto un tiro in porta ma tu al novantesimo non ce l'hai arrivato lo 0 a 0 però è quello il punto questa è una partita che andava chiusa nel primo tempo per quello che era il valore dell'avversario e quindi è proprio imperdonabile non essere passati con un avversario del genere quindi l'italia veniva avanti sistematicamente a un certo punto sono cominciati degli errori e si è notato un po di nervosismo cioè sta palla quando arrivava al limite dell'area sembrava che pesassi 10 kg e tutti quanti sembrava che si scaricavano a un alto a quello più vicino il compito di crozzare o di tirare in porta e a un certo punto purtroppo si è notato che c'era paura a tirare in porta nel senso che cercavano sempre il passaggetto la finta col passaggetto a quello che arrivava ma non c'è stato mai uno dal limite dell'area che ha provato la bordata il tiro anche spocco deviato che in quella squadra così chiuda può arrivare è mancata in sostanza la cattiveria e questa è una cosa che molti stanno scrivendo anche sui social è mancata la cattiveria la fame andare in campo per vincere non è perché tu sei più forte che vinci la partita in automatico che loro sono più scatti gioca tutti dietro prima o poi la palla entra non è detto che prima o poi la palla entra può non entrare quindi tu devi andare in campo con l'idea dei magnati avversari il pallone il terreno tutto per metterli sotto andare primo tempo 2 a 0 e andare avanti in questa qualificazione io prima della partita era un po perplesso l'avevo ripeto anche detto nel video perché ci hanno stati pochissimi giorni per preparare questa partita di questi giocatori che fanno molti hanno giocato anche le coppe si sapeva che avevano avuto poco tempo eccetera e ho pensato questo magari è un pensiero stupido però un po romantico però sarebbe stato bello che alla vigilia di un appuntamento un doppio appuntamento così importante per lo sport italiano per il calcio eccetera che sappiamo che lo sport più importante sappiamo benissimo in italia sarebbe stato bellissimo non bello che le squadre si fossero messe tutte d'accordo le squadre di serie a e non far giocare i giocatori che andavano in nazionale non so se mi sono spiegato cioè nel turno precedente i vari protagonisti in azzurro non giocavano giocavano nella juve nell'inter nel milan nella roma nella lazio quello che è e andavano direttamente a covecciano a preparare queste due partite secondo me sarebbe stata una cosa stupenda so che è irrealizzabile perché purtroppo nel calcio moderno ci sono tanti interessi economici contratti quindi le società dicono io ti pago lo stipendio tu devi giocare non è che poi la nazionale viene un'altra cosa eccetera però sarebbe stato bellissimo secondo me e per come tornare le cose sarebbe stato anche utile perché io non so se è stata stanchezza mancanza di concentrazione sottovalutazione dell'avversario una sottovalutazione penso che ci sia stata perché la macedonia una squadra che è inferiore ma nettamente ma proprio nettamente all'italia ma anche proprio a livello tecnico ma anche a livello tattico questi sono solo difesi con con grande coraggio con grande una resistenza proprio più con la difesa tra l'altro con una tattica folle perché pensare che questi sono riusciti poi alla fine a vincere questa mattina nei 90 minuti fa anche ridere cioè tutti dietro non hanno mai tirato in porta una difesa senza speranza dove tu punti tutto sul fatto che i tuoi avversari sbagliano tutto quando arrivano davanti alla volta non sta proprio in piedi a livello tattico poi siccome è proprio vero che il pallone a rotondo a questo che è capitata sta palla al 92esimo in mezzo al 3 4 giocatori avversari se l'è portata avanti con grande determinazione è andato proprio a provare questo tiro della domenica ha pescato jolly ha pescato jolly che ci ha ucciso a livello sportivo ci ha privati anche delle emozioni dei tempi supplementari sarebbero stati interessanti credo l'italia poi alla fine a forza di dai dai sarebbe riuscita a trovare la rete della qualificazione durante i tempi supplementari ma è andata così e non ce la possiamo prendere con tra i coschi che segna questo gol completamente inatteso ma a un certo punto negli ultimi minuti la vittoria della macedonia ho visto online le quote dei bookmakers era 21 era 21 pensate un po' noi ce la dobbiamo prendere con noi stessi perché non trovare la via della porta con un avversario del genere con tutte le occasioni che ci siamo costruiti e tutte le occasioni che ci sono state anche consegnate dall'avversario che tecnicamente tra l'altro ha sbagliato un sacco di passaggi cioè spesso ci hanno anche regalato la palla come appunto un'occasione del clamoroso errore di Berardi nel primo tempo ma anche in altre occasioni sicuramente la pancia di questi di questo gruppo era piena dopo gli europei lo abbiamo visto nelle gare di qualificazione l'italia non doveva neanche arrivarci agli spareggi l'italia doveva battere la svizzera già in svizzera e comunque battere l'olimpico una gara di torno quando giorgina ha sbagliato rigore che tra il resto ha sbagliato anche l'andata paghiamo un po questi errori di presunzione cioè avere rimandato giorginio a tirare un rigore dopo che aveva sbagliato col conto la stessa squadra nella gara d'andata dopo che aveva sbagliato un rigore anche nella finale europea rimandarlo a tirare un rigore decisivo per la qualificazione mondiale c'era una cazzata che incommentabile perché il giocatore va sul dischetto con 800 fantasmi in testa già c'è un modo di tirare i goli tutto suo che non mi ha mai convinto però caricarlo non puoi caricare un solo uomo di tutte queste responsabilità no può accadere che si sbaglia può accadere facilmente il gioco è proprio quello invece di mandare sempre un giocatore nuovo a prendersi tutte queste responsabilità così pesanti anche per non dare un punto di riferimento al portiere avversario che in questo modo non sa bene uno come tirano quindi penso che ognuno si deve prendere le sue responsabilità io sono stato primo a battere le mani a questo gruppo a mancini a tutto lo staff quando hanno vinto gli europei purtroppo sono anche primo che deve dire che mancini dopo gli europei non ha capito che serviva un rinnovamento serviva gente con la pancia con la pancia vuota come poteva essere appunto giovane pedro che entrato oggi al 92 al novantesimo che non è una cosa che non ha senso i giocatori su figure nuove non capisco come un allenatore così esperto possa cadere nel trappolone domenico berardi con giocatore come posso dire è un intruppone pure lui è un intruppone sembra sempre sul punto di spaccare il mondo poi quando tira in posta sembra che non sa manco lui dove tira quindi quando prende l'incrocio dei vali sembra un fenomeno poi lo vedi in altre occasioni non sembra che non sa manco lui dove tira sempre con questo atteggiamento ride quando sbaglia se fa una risata che non mi piace per niente anche poco poco professionale purtroppo serviva qualche giovane nuovo qualche persona più portarsi freschezza entusiasmo gente dell'under 21 no da dare un po più di ricambio non diventare anche un po più imprevedibili perché l'italia è stata anche nel suo andare continuamente all'attacco è stata anche molto prevedibile oggi la squadra ha avuto due pecche tecniche indecenti cioè non avere un centravanti in grado di giocare a calcio scusate se poco e non avere un rifinitore dietro questo centravanti in grado di innescarlo di fare l'assist filtrante il famoso filtrante no perché ti spacca due la difesa andavamo avanti come una squadra di di rugby no continuando a spostare la palla da destra a sinistra in orizzontale poi si buttavano dei palloni in mezzo spesso con degli errori anche nei passaggi nei cross e inconcepibili c'è stata una situazione nel secondo tempo un calcio d'angolo da sinistra c'erano tipo 30 giocatori in area di rigore calcio d'angolo battuto fuori area dove un ricordo chi arriva al volo e colpisce al volo da 25 metri 30 metri con 30 giocatori davanti ma cosa poteva fare quello c'è una cosa proprio cervellotica quando c'hai tutti in area di rigore mettila bene però in mezzo bella tesa al centro dell'area di rigore speri in colpo di testa questo complicarsi la vita no è stato uno dei limiti di questa squadra stasera è un terremoto per il calcio italiano si dimetteranno tutti si dimetterà naturalmente mancini purtroppo paga paga questa situazione dove lui purtroppo ha pagato questa sua innata presunzione che c'è un uomo un po' presuntuoso mancini un grandissimo calciatore come allenatore penso che sia un buon allenatore ha fatto un'impresa riportando la coppa di campionato europeo dopo 53 anni italia anche all'inter ha fatto molto bene non discuto le qualità e di mancini discuto che purtroppo succede molto spesso e succede molto spesso alle scuole italiane che quando tu vinci il mondiale l'europeo poi c'è un c'è un a me pare di ricordare non mi vorrei sbagliare proprio nell 82 noi poi non ci siamo qualificati subito dopo agli europei successivi se mi ricordo bene è così è stata non ci siamo qualificati dopo la vittoria 82 perché succede che i giocatori hanno la pancia piena nello stesso tempo tu per riconoscenza non li cambia anche perché ormai c'è un rapporto di fiducia da parte dei tifoti che vogliono quei giocatori ma quei giocatori non riescono a mantenere il livello alto di rendimento che hanno avuto in quella manifestazione e quindi c'è un calo e la mancanza delle motivazioni magari viene a mancare anche un po' di fortuna e esci fuori che è quello che succede esattamente dopo questi questa vittoria agli europei in questa occasione dopo il calcio italiano esce molto ridimensionato da questa eliminazione che arriva da un avversario modesto questa è una squadra che veramente vale ben poco avete occasione di rivedervela questa partita con calma no vi rendete conto che loro sono una squadra elementare proprio la macedonale nord in serie a arriva dodicesima tredicesima una cosa così non arriva neanche nella parte sinistra della classifica però ogni partita della storia purtroppo nei 90 minuti io l'avevo anche detto nel video precedente non è attenzione perché non è una partita andata e ritorno dove in 180 minuti hai il tempo di rimettere a posto le cose la gara eliminazione diretta è sempre un terno all'otto perché può succedere proprio quello è successo stasera che stacchi attacchi attacchi non segni un episodio un calcio di munizione dal limite un calcio d'angolo prendi gol e dopo si fa notte è la stessa cosa stasera poi è successo che hanno segnato al 92esimo e non c'è stato neanche il tempo poi di riorganizzarsi ma è un peccato perché io ritengo che ai tempi supplementari in un modo nell'altro a forza di dare e dare la palla sarebbe entrata e ci saremmo qualificati io la vedo così ma non ci si doveva arrivare ripeto al 92esimo in quelle condizioni questa mattina andava vinta 2 a 0 senza problemi chiusa e sbloccata presto eccetera eccetera se l'avessimo sbloccata poi loro si sarebbero dovuti aprire e sarebbe stato tutto più facile perché questa è una partita che ha confermato il solito limite del nostro calcio noi siamo molto bravi quando ci dobbiamo chiudere per lasciar fare la partita agli altri falli stancari e poi colpirli in contropiede in quello siamo i numeri 1 al mondo quando dobbiamo fare noi la partita e andare ad stanare l'avversario nella sua area di rigore nel suo 18 metri abbiamo sempre delle difficoltà non c'è sta niente da fare siamo i maestri del contropiede i maestri delle ripartenze negli spazi in velocità le palle rubate a metà campo e trasformate in oro per gli attaccanti ma quando si invece stanno tutti dietro ad aspettarci sono sempre problemi è un limite nel nostro calcio è sempre stato un limite per cui noi paradossalmente faremo sempre delle grandi partite contro il brasile la germania eccetera poi magari avremo sempre delle difficoltà con squadre modeste e mediocri più sono mediocri e più si fanno giocare male a noi perché non giocano a calcio e si chiudono indietro e noi abbiamo problemi e la partita anche mi era sembrata colpiglio giusto la squadra ma poi si è smarrita proprio di fronte ai primi errori sottoporta le prime mischie che non si riusciva a risolvere è come se psicologicamente avessero accusato l'incapacità di perforare questa questa difesa se fossimo riusciti a trovare probabilmente con quella con l'occasione di berati che sarà clamorosa il gol nei primi 20 25 minuti saremo parlando penso di un 3 a 0 a questo punto ma ormai sei ma non contano niente questa è una partita con uno spartiacque della storia del calcio italiano da domani cambia tutto cambia allenatore cambia staff tanti giocatori anche saranno messi da parte molto probabilmente finisce anche l'avventura nazionale di gente come bonucci e chiellini i giocatori più anziani saranno messi da parte non so con quanto coraggio il prossimo allenatore potrà puntare su ciro immobile non credo proprio che punteranno ancora su questo giocatore c'era scamacca che questa partita secondo me ci sarebbe potuto essere molto utile ma si è infortunato aveva problemi muscolari penso che con la sua staccia la sua abilità sulle sulle palle alte oggi scamacca avrebbe voluto darci una mano ma poi non lo sapremo mai perché non c'è la riprova magari scamacca non avrebbe preso una palla non lo sappiamo noi dobbiamo giudicare quelli che abbiamo visto in campo per quanto mi riguarda ripeto a un certo punto della partita immobile andava tolto molto prima e far entrare la spadori non è servito a niente e quindi avrei puntato su gioco petro che anche qua però non abbiamo la riprova perché ha perlomeno una prima punta che si poteva secondo me da un contributo è uno che segna anche di testa bravo anche la colbazia su questi cross e ne abbiamo fatti tanti di cross ma tutti quanti sfasati tutti quanti o troppo corti o troppo lunghi o troppo sempre così un po buttati in mezzo così comunque bisogna guardare avanti l'italia è uscita dai mondiali la seconda volta consecutiva io non lo so se succederà più una cosa del genere ne auguro che non succeda più io oggi ho 52 anni diciamo che vivrò un alti 25 anni speriamo non credo che rivedrò più l'italia che per due volte non si qualifica mondiale perché già una volta è una cosa clamorosa una cosa già incredibile ma due volte consecutive penso che sarà molto difficile per quello che è l'importanza del calcio nella nostra società che sappiamo che lo sport più amato più praticato è qualcosa che veramente fa parte della nostra cultura però bisogna digerire questo boccone amaro nella consapevolezza che anche nelle coppie purtroppo da anni l'italia fa poco molto poco speriamo adesso ci sono ancora in costa l'atalante in europa league che però ha un durissimo avversario nel barcelona rixavi c'è la roma in conference ma come vedete siamo a marzo e siamo già tutti fuori dalla cemper league siamo sono solo due squadre italiane ancora in costa nelle coppe quindi è evidente che quello che diceva corampandev ieri l'altro ieri era giusto cioè negli ultimi anni il livello del calcio italiano è sceso c'è poco da fare il calcio italiano è peggiorato per i motivi che sappiamo tutti mancanza della cura dei vivai questa ricerca sempre ossessiva degli stranieri dal da mezzo mondo che non fanno però crescere i giovani e quindi l'organizzazione generale del sistema calcio che sicuramente in questi due anni ha pagato anche i mancati introiti a causa degli stati chiuti per il covid e tante piccole cose messe insieme che hanno generato un rendimento che è sceso oggi il campionato italiano non è proponibile per esempio rispetto alla premia league ti propone delle partite che sono molto più vivaci molto più combattute dove i giocatori vanno al doppio della velocità per esempio quindi lentamente siamo andati indietro siamo tornati indietro serviranno delle politiche mirate per cercare di ravvivare di vitalizzare un po il movimento e purtroppo quest'estate celebravamo le vittorie della squadra dei malcini stasera è il de profundis anche se oggi ora molti dicono eh ma si sapeva l'italia giocava male aveva avuto culo molti dicono che hanno avuto culo non è così che oggi purtroppo abbiamo perso quindi arrivano gli sciagalli no che in realtà nessuno si aspettava di uscire con la macedonia diciamo la verità insomma in qualche modo si pensava di andare avanti poi l'avattivato il portogallo che sarebbe stata anche molto bella secondo me effettivamente rappresentava un baluardo però io penso che in quella gara cioè che sarebbe stata invece una gara difensiva con il contropiede forse ci saremmo potuto disimpegnare paradossalmente meglio rispetto alla partita di oggi il torto rimancini stasera è stato quello di non disegnare tatticamente una squadra in grado cambiando anche modulo eventualmente in corsa di scardinare questa difesa ma ormai purtroppo le analisi tattiche lasciano il tempo che trovano perché da domani mattina si volta radicalmente pagina e si comincia una nuova era mi dispiace perché fa veramente un peccato perché era un gruppo che secondo me è un gruppo su cui si poteva lavorare bene perché si poteva da qui a fine anno inserire giocatori molto importanti molto importanti chiesa daniolo spinazzola cioè giocatori che recuperare gli infortuni potevano andare a ricchire questa squadra ai prossimi mondiali che si giocano a fine anno e però purtroppo andrà così non bisogna piangere troppo bisogna avere la forza di guardare al futuro e capire che è finito un ciclo si volta pagina e da domani nasce una nuova Italia ragazzi buona serata a tutti e grazie per l'attenzione